Roseto-Valfortore è uno dei comuni più caratteristici dei Monti Dauni. La sua bellezza, che ha fatto sì che venisse annoverato tra i borghi più belli d'Italia, è stata nuovamente premiata con il riconoscimento di Comune Fiorito. Questo rende Roseto una meta molto ambita in chiave turistica. Di questo, di energie rinnovabili e dei nuovi progetti che il Comune ha in serbo per il futuro, abbiamo parlato con la Vice Sindaco Lucilla Parisi. Roseto ha avuto la fortuna di sposare l'eolico già dal 1995, però il boom lo abbiamo avuto con gli introiti della Fortore Energia, le royalties della Fortore Energia, che ha messo sul territorio 30 aerogeneratori di 2 mega, dando una possibilità economica abbastanza ingente al Comune, con finanziamenti che abbiamo usato per fare diverse attività nel sociale, per quanto riguarda le attività produttive, per quanto riguarda l'ambiente, tutta una serie di cose, il recupero del centro storico, tutta una serie di cose che hanno fatto in modo da portare Roseto ad un livello più ottimale rispetto a quello che era prima. E quanto invece il settore turistico ha inciso in questo forte sviluppo? Il settore turistico noi stiamo puntando, come tutti i comuni piccoli, come Roseto al turismo, perché c'è un potenziale ambientale enorme. Diciamo che i primi passi li abbiamo mossi, però perché la situazione si evolva nel miglior modo possibile c'è bisogno ancora di fare tantissimo. Stiamo continuando sulla strada che abbiamo tracciato. Abbiamo fatto un programma ben definito dieci anni fa e quindi la strada che abbiamo tracciato sarà quella di ambiente, turismo, sociale, giovani soprattutto, perché il futuro è dei giovani e quindi mai metterli da parte, relegarli in un angolo, cercare di attirarli quanto più possibile, non è mai annoiarsi e stancarsi di dire venite da questa parte, proponete, perché ciò che proponete non dico tutto, ma quello che si può fare si farà proprio per cominciare a dargli fiducia.